Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a questa rassegna stampa ultima della settimana e naturalmente chiudiamo con occhio ai giornali, dopo occhio ai giornali naturalmente tornerà lunedì mattina, come sempre però facciamo le cose per bene, iniziamo con l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo oggi è sabato 5 marzo, Sant'Adriano di Cesarea, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 18.02 vedete le giornate si allungano sempre di più, giorno dopo giorno vediamo le previsioni del tempo che ci propone la protezione civile delle marche tutte e tre le giornate prese in considerazione sono all'insegna della variabilità e quindi anche il fine settimana il cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi per la giornata di oggi precipitazioni sparse prevalentemente sui rilievi però non si escludono anche fenomeni sul resto del territorio vedete la cartina, il limite delle nevicate è intorno ai 1500 metri le temperature però sono in aumento, risalgono per domenica sostanzialmente, come si dice, se non è zuppo e pan bagnato anche qui parzialmente nuvoloso, aumento della copertura nelle ore centrali della giornata possibilità di deboli piogge e il limite delle nevicate scende di qualche metro da 1500 a 1300, temperature stazionarie lunedì, primo giorno della settimana entrante anche qui vedete stesso schema cielo parzialmente nuvoloso, possibili precipitazioni e temperature indieve, diminuzione questo è lo stato attuale, quello futuro del tempo, la sua evoluzione allora andiamo nelle pagine dei giornali quest'oggi il resto del Carlino ci propone una tipologia di sorveglianza diciamo attiva della cittadinanza cosa avviene? Avviene che dei cittadini si sono formati in dei gruppi su un'applicazione di messaggeria conosciuta da tutti Whatsapp che permette in questo modo di fare un po' da sentinelle del territorio quindi utilizzando questa metodica di messaggistica ci si qualizza, ci si fa fronte comune verso i ladri, i delinquenti vediamo, allora le pagine del Carlino sono a tutta pagina su due pagine, la 2 e la 3 e ci difendiamo da soli a Cannavaccio va la ronda su Whatsapp così abbiamo già sventato un furto sono più di 50 le famiglie iscritte al gruppo che tiene lontani i banditi vedete nella vigneta di Giombetti raffigurati un po' questi cittadini armati di binoccoli, insomma in maniera simpatica però l'utilizzo è questo qui davanti di spalla ci sono anche altri esempi di messaggi l'amministratore del gruppo dice io dispongo anche di un'app gratuita che ci permette di controllare le targhe e l'altra pagina che parla di questo fenomeno che sta prendendo piede riguarda un'altra zona, quella di Cagallo dove più di 100 iscritti e tutti quanti terrorizzati dai ladri perché dicono spaccano le auto per pochi spiccioli quindi insomma è una forma di sorveglianza della cittadinanza attiva che insomma permette di essere un po' più attivi sul territorio a volte ci sentiamo trascurati dalle istituzioni ci manca un presidio fisso di polizia o carabinieri la caserma più vicina è a tavoleto occhi elettronici avevano chiesto anche gli abitanti di Cagallo delle telecamere di video sorveglianza ma ancora non c'è nessuna risposta a riguardo però sicuramente questo è una metodica per essere attivi e vigili sul proprio territorio senza sostituirsi naturalmente alle forze dell'ordine però in questo modo proprio il compito delle forze dell'ordine come spesso evocato dal questore laureola è un compito attivo e soprattutto molto utile alle forze dell'ordine allora contro i furbetti il comune di Pesaro attiva a guardia di finanza siglato un accordo controlli sugli alloggi popolari ancora da chiarire il caso della sorella dell'ex ministro Chiang il sindaco sul sociale dice chi ottiene agevolazioni senza averne diritto deruba invece chi ha davvero necessità di questi alloggi perché chiaramente usufruisce di qualcosa del quale non ha diritto la sanità è l'altro argomento che comunque è presente nelle pagine dei quotidiani torna il fronte antifosso sei ore il Movimento 5 Stelle ipotizza anche un referendum perché i cittadini devono mobilitarsi e poter dire la loro è un'ipotesi che va cancellata forum di beni comuni e sinistra che addirittura dicono va di retro anche il privato il sindaco Ricci ugualmente sorpreso e preso in controbalzo come si dice da questa delibera dice io rimango fermo sulla mia scelta di muraglia ho letto sul giornale quello che era successo aspetto naturalmente ceriscioli per sapere che cosa ha in realtà intenzione di fare quale sarà lo sviluppo della cosa andiamo nelle pagine di Fano del resto del Carlino un brutto episodio di violenza sulle donne e fra poco è la giornata che così ricorda quell'episodio brutto che diede tutto il via al movimento femminista e l'8 marzo la giornata delle donne si avvicina e insomma non è solo tanto un'occasione per fare Baldore e andare a mangiare una pizza con amiche e amici ma è un momento di riflessione ci sono tanti spunti per farlo questo episodio picchia sangue davanti al bambino un pestaggio di due ore lui è stato arrestato, è un boscaiolo finora la donna aveva cercato di nascondere il dramma che viveva nelle sue mura di casa le ferite, il terrore, sedi rotte, sangue uno scenario devastante davanti agli occhi dei militari lui è stato arrestato spesso avviene questo spesso chi è vittima di queste violenze tende a ridimensionare il fenomeno magari non lo dice per vergogna o per proteggere i figli ma forse questa è la cosa peggiore da fare ci sono i modi, ci sono le istituzioni ci sono le persone alle quali rivolgersi senza indugio parliamo di scogliere nel resto del canino si parla di scogliere che riguardano Fano siamo davanti alla Sassonia nuove scogliere, bombe permettendo firmato il contratto per la parte da 3 milioni di euro ma c'è anche il problema dei reperti archeologici allora una ditta specializzata e anche degli ordini bellici che ci possono essere davanti alle nostre coste scaricati lì per la seconda guerra mondiale quando c'è stato il fronte e allora una ditta specializzata che lavora con il ministero e con l'esercito italiano sta sondando il tratto di mare antistante alla spiaggia di Sassonia proprio per verificare se ci sono ordini bellici e anche reperti archeologici che non devono andare distrutti o persi insomma quindi ecco l'assessore Fanesi dice se siamo fortunati se tutto va per il verso giusto potremo iniziare i lavori anche entro questo mese lasciamo il resto del carlino andiamo nell'altra testata il Corriere Adriatico ripartiamo da Pesaro anche qui finanza indaga sui furbetti case popolari protocollo collo comune ricci investiremo in tre luoghi urbani poi naturalmente un appuntamento annuale nella città di Pesaro è quello con i premi i riconoscimenti che il Circo della Stampa fa ai pesaresi nel mondo tutti quelli che riceveranno questo riconoscimento sono Michele Mariotti Gianluca Pascuce e Maria Grazia Uguccioni nella foto vedete Maria Grazia Uguccioni che è il direttore del laboratorio di ricerca a Bellinzona in Svizzero insomma il 52esimo premio al Circo della Stampa di Pesaro quest'anno è dedicato allo scomparso Umberto Eco un vero stimatore affezionato del circolo della stampa di Pesaro Fano per il Corriere Adriatico apre sulla sanità unito al centrodestra Seri si dimetta perché il sindaco Seri aveva appoggiato l'iniziativa di Udc e progetto Fano per l'esposto presentato in procura su alcuni episodi di sanità che riguardavano l'ospedale aveva appoggiato questa iniziativa questa cosa non va giù al Movimento 5 Stelle che alza il tiro e dice il sindaco non firma l'ordinanza sul Santa Croce per la chirurgia H24 e quindi si dimetta analoga richiesta hanno indirizzato a Ceriscioli su questa vicenda e poi incalzano naturalmente sulle argomentazioni in questo articolo di Lorenzo Furlani che dice nella delibera della regione nessun riferimento al mutuo e alla struttura di secondo livello comunicati a Fano durante la seduta del 18 di gennaio in cui appunto era presente Ceriscioli e fece questo annuncio e per questo insomma il fronte della sanità è un fronte bollente andiamo all'interno andiamo a Cartoceto via Umberto I riapre dopo il crollo di otto mesi fa procedono i lavori di asfaltatura per la realizzazione di una nuova rotatoria anche a Lucrezia invece a San Lorenzo in campo i ladri fanno visita a scuola e comune hanno aperto cassaforte e cassetti per prendersi pochi spiccioli andiamo a Senigallia come sempre facciamo vediamo cosa succede anche lì ma al tempo non ferma le aperture ci si prepara alla Pasqua naturalmente tutte le attività commerciali di ristorazione e di ricezione si mettono in moto qui si parla di Uliassi e di Cedroni naturalmente due chef stellati che aprono i battenti dei loro locali naturalmente anche in piazza Saffi e quindi Senigallia va verso la Pasqua e poi a pie pagina i parcheggi nei pressi delle scuole sono sempre un problema qui nei paraggi della Pascoli sono fioccate tante multe i genitori che naturalmente dicono ma dalle 16 alle 16.30 non si potrebbe fare una deroga perché non ci sono parcheggi per andare a prendere i figli multe ai genitori a raffica ma la risposta a questa lettera di questa mamma del sindaco è abbastanza chiara e identificativa l'unico modo per non rischiare sanzioni è quello di non commettere infrazioni e quindi di non parcheggiare dove non si deve parcheggiare il messaggero apre con la vittoria della Coppa Davis dell'Italia per un secco 2-0 dopo una maratona lunghissima hanno avuto la meglio sui sui crociati svizzeri Marco Chiudinelli e Lach Sonnen il nostro Paolo Lorenzi e Seppi che incontri praticamente molto lunghi hanno avuto la meglio sugli svizzeri e poi case popolari caccia ai furbeti il comune firma un accordo di collaborazione con la finanza appartamenti sui casi sospetti accertamenti mirati sui casi sospetti saranno effettuati il maltempo resto resta il maltempo ancora incerto insomma vediamo se nelle prossime ore ci sarà qualche miglioramento andiamo verso la bella stagione insomma vediamo come come vorrà Giove Pluvio gratificarci allora case popolare stretta sui furbetti come si diceva previsti scambi di informazioni ecco in questo modo avverrà questo accordo e le indagini saranno mirate sui sospetti è uno dei primi accordi di questo genere in Italia e poi toccherà anche agli asili che saranno insomma saranno bagliate le posizioni di quelli che usufruiscono degli sgravi piscina si parla di sport anche sempre su Pesero nel messaggero non solo di Coppa Davis piscina di Pentatron il sindaco promette pronta a settembre c'è stato un lungo stop l'impianto finalmente potrà decollare intanto a Candelara la giunta presenta gli interventi in cantiere qui vedete nella foto il sindaco che sciorina tutti gli interventi che saranno fatti e dice che il 30 di giugno l'impianto non sarà pronto e quindi verrà inaugurato a settembre ultima pagina Fano il messaggero anche qui sanità a tutto tondo il vice presidente del consiglio regionale Renato Claudio Minardi difende a spada tratta il governatore quello era soltanto un atto tecnico riferendosi alla delibera del 22 febbraio e i grillini dicono seri e ceriscioli ora si dimettono la delibera regionale su Fosso Segiore appunto infiamma la politica Marta Ruggeri guida la protesta di questo di questo momento per la sanità da parte dei 5 Stelle e insomma l'esponente invece dei Democrat ribatte si valutano anche altre possibilità compresa quella di Chiaruccia e poi mangiano biscotti alla droga marihuana malore per mamma e figlia forse era meglio che utilizzavano altre forme di colazione bene grazie per essere stati in nostra compagnia è tutto qui per i giornali o che i giornali torna lunedì mattina come vi dicevo in apertura alle 7.30 appunto puntualmente questa sera occhio alla notizia alle 20.30 e poi sempre il nostro sito e la nostra pagina web su Facebook grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia vi rimando ai programmi di Fano TV e alla settimana prossima arrivederci buon fine settimana a tutti voi a tutti voi